Ancora novità in casa Brioni. Dopo Gabriele Di Tonno, dipendente dell'azienda da 24 anni, a lasciare a fine mese la Maison d'Altamoda Pennese, sarà il direttore delle risorse umane Brioni, Ivan Mazzei. Lo stesso direttore, nei giorni scorsi, ha comunicato la sua scelta ai sindacati, che tramite una nota comune ritengono la cosa tutt'altro che positiva, visto che tutto questo ricadrà sul tempo a disposizione della trattativa, integrativo e flessibilità su tutti, che scadrà il prossimo 31 dicembre. A tal proposito, ecco le parole di Leonardo D'Addazio, sindacalista Femca Cisle. È proprio per questo che siamo preoccupati, non siamo preoccupati per la persona che va via, perché gli uomini passano, cambiano, ma per chi si deve occupare delle relazioni sindacali, perché, come abbiamo già dichiarato, resta poco il tempo a disposizione per trovare le soluzioni per quanto riguarda sia il contratto integrativo che l'accordo di flessibilità. All'inizio dell'anno 2019 ci sono state molte frizioni, con fatica siamo arrivati a una soluzione il 28 febbraio, il 26 febbraio, quindi diventa complicato. La soluzione veloce, naturalmente, non vogliamo fare fuga in avanti in nessun modo. È ovvio che per noi l'interessante è mantenere i posti di lavoro, ma oltre a mantenere i posti di lavoro, cercare un'organizzazione del lavoro migliore, condizioni di lavoro migliore e anche un salario migliore. Il salario migliore attraverso sia il contratto integrativo, sia magari, l'augurio è sempre lo stesso, che potesse tornare, come nella situazione precedente al 2016, con un contratto di lavoro di 36 ore per il full time e di 20 ore per il part time. A novembre c'è il meeting annuale con l'amministratore delegato, quindi le notizie vere, fresche e tangibili le troveremo sicuramente a novembre con l'amministratore delegato per vedere come affrontare il 2020.